Qui c'erano le reliquie, tre scranni dentro delle reliquie. In questo scranno centrale c'erano delle reliquie appartenenti a dei frati che eravano vissuti in questo luogo e le falangi e altre ossicine. Poi sulla ostra destra c'era invece la coperta di un frate cappuccino raniero. E invece in questo scranno qui c'erano due teschi, dei briganti, questi briganti che erano stati convertiti da San Francesco e che poi erano vissuti qui. Furti di reliquie, opere d'arte ed altri oggetti sacri all'eremo di Monte Casale ci troviamo a pochi chilometri da Sansepolcro. In manette sono finiti due ladri, un sessantenne ed un cinquantenne, entrambi delle marche. La lunga scea di furti era iniziata nel 2017. I malviventi infatti si mescolavano tra i fedeli, scattavano le foto agli oggetti di interesse e poi tornavano dopo qualche giorno per trafugarli. L'ultimo colpo è stato messo a segno solamente ieri, ad incastrarli le telecamere di videosorveglianza installate dentro l'eremo. Prima è stato colto sul fatto nel negozietto che abbiamo dei ricordini perché aveva preso degli oggetti ed era la stessa persona che tre settimane fa era stata individuata attraverso le telecamere, perché abbiamo messo delle telecamere. Ho avuto l'accortezza di chiamare immediatamente la volante di carabinieri dicendo guardi che è la persona stessa che tre settimane fa ci ha rubato. I militari sono così riusciti a cogliere sul fatto i banditi. In auto avevano ancora gli oggetti rubati poco prima all'eremo. A casa di uno dei due infine i carabinieri hanno trovato le reliquie, gli oggetti e le opere provento dei colpi dal 2017 in poi, molte delle quale anche dal rilevante valore artistico. È un ritrovamento importante, importante perché rientriamo in qualche maniera in possesso di qualcosa che fa parte della nostra identità. I due arrestati giudicati questa mattina e con rito direttissimo sono stati condannati ad un anno di reclusione.